Il giorno d'oggi si sente sempre più parlare della tecnologia contactless Si tratta di un'opzione presente in sempre più carte e che permette di pagare senza inserire la carta nel POS o anche di non dover inserire il PIN sotto certi importi In questo video ci focalizzeremo su come funziona il contactless nelle carte PostPay Come attivare o disattivare la funzione contactless nella PostPay Non molti sanno che il contactless si può gestire facilmente dall'app PostPay dall'area personale di Home Banking chiamando il numero verde 800 003322 o anche semplicemente recandosi a uno sportello Bancomat Se optate per l'opzione del sito di poste basterà che fate il login e cliccate nella sezione le mie carte Dopodiché basterà che selezionate la carta nella quale volete attivare questo servizio e confermare l'operazione eseguendo i passi che vi indicheranno sullo schermo Nel caso non voleste più usufruire di questo servizio il processo di disattivazione sarà il medesimo Infatti, basta che ritornate sul sito ufficiale nella sezione le mie carte e potete tranquillamente disattivare questa opzione Non vi sono costi aggiuntivi per utilizzare questa tecnologia nelle carte di banco posta Come faccio a sapere se un negozio accetta il contactless o no? Per scoprire se potete utilizzare l'opzione contactless dovrete vedere se vi sono alcuni loghi come i simboli di PayPass e PayWave C'è da dire che sempre più negozi accettavano la tecnologia contactless in particolare nelle grandi città e nelle grandi catene commerciali Il funzionamento è molto semplice, dato che dovete semplicemente passare la carta sopra il post senza doverla inserire come si faceva in passato Cosa intendiamo con la tecnologia contactless? Il nome stesso di questa tecnologia suggerisce il modo in cui la utilizzeremo dato che contactless significa letteralmente senza contatto in inglese Infatti, per utilizzare questa tecnologia dovremo semplicemente avvicinare la carta al post senza doverla inserire Ricordiamo anche che vi sono 4 linee semicircolari che suggeriscono che una carta ha la tecnologia wireless C'è però un limite per effettuare pagamenti con il contactless e questo limite è di 25€ Ricordiamo che avrete bisogno sia di attivare la tecnologia contactless sulla vostra carta sia di utilizzare questo metodo con un post che accetta pagamenti con il contactless Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tanti video sulle carte per pagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento Ci vediamo al prossimo